Ah, non si preoccupi, il risultato del tampone è positivo. Ah, positivo, grazie, così. Come positivo? Sì, positivo, anzi, molto positivo. Quindi ho il covid? No. Quindi il risultato del test è negativo? No, il risultato del test è positivo. Quindi ho il covid? No! E come faccio a non avere il covid se sono positivo? Ma io non ho detto che lei è positivo! Ma l'ha detto un secondo fa! No, non ho detto che era positivo, io ho detto che il risultato del test era positivo, e il risultato del test è negativo, quindi è positivo che sia negativo! Portatelo in terapia intensiva! Ma che cazzo...